Non ci credo, è ovunque, basta! Che è successo? Hai presente quell'attore che stava spopolando su Netflix? Ha fatto la seconda filmografia Vediamo! Per forza! Strange Silvia Strange E io ammiro la sua fortuna, mister... L'attore! Gianni l'attore! Fermatevi! Non si passa! Chi siete? Attori! Ma tu come te chiami? Gianni! Come? Gianni! Come? Gianni! Ma se dai soldi, G come G, I come Gianni! Gianni, è facile! Non premere questo pulsante! Avanti, ripeti quello che ti ho detto! Io sono Gianni! Aha! Io sono Gianni! Io sono Gianni! No! No, quello è il pulsante che ucciderà tutti! Ettore! No, sono Gianni! Ettore! Sono Gianni! Eh, questo c'ha un problema! A mezz'ora che cico sono Gianni, ancora non l'ha capito! Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui! Non verrò a cercarvi! Non vi darò la caccia! Ma se non lo farete, io vi cercherò! Vi troverò! E vi ucciderò! Ma ho detto solo sono Gianni! C'è bisogno di fare così! La prossima volta non chiamo più! Che è come lo fa? C'è nessun altro! E allora c'è però problema! Ma che dite a fare? Che ci dite? Che dite? Fuori! Dottore, mi creda! Veramente non ce la faccio più! Lo vedo ovunque! In televisione, sul cellulare, nel giornale! Basta, io sono stanco! E io sono Gianni! E io sono Gianni!